Isolamento inadeguato, infiltrazione di umidità, difetti di costruzione, sono tutti problemi critici che occorre individuare velocemente e diagnosticare in modo corretto. Ecco perché FLIR ha introdotto una nuova linea di termocamere avanzate serie EXX per offrirti lo strumento di cui hai bisogno per eseguire rapidamente indagini in cantiere, in modo da risolvere i problemi prima che richiedano costosi interventi di riparazione. Le termocamere serie EXX offrono risoluzioni fino a 464x348 pixel con un rilevatore a infrarossi sufficientemente sensibile per identificare le più piccole differenze di temperatura. Questo consente di individuare i primi segni di perdite d'aria, umidità o problemi di costruzione. Tuttavia, per portare a termine il lavoro non servono solo una sensibilità e una risoluzione elevate. Il campo visivo di 42 gradi consente di svolgere velocemente indagini di ampie aree. Miglioramenti come la tecnologia MSX brevettata da FLIR aggiungono la prospettiva di cui hai bisogno per identificare i problemi e riconoscere le posizioni. L'interfaccia intuitiva e reattiva e il luminoso schermo da 4 pollici rendono i modelli serie EXX molto semplici da usare da qualsiasi angolazione. Quando rilevi un'area danneggiata dall'acqua o un isolamento difettoso, la funzionalità di misurazione della distanza tramite laser della termocamera consente di calcolare l'area in metri o piedi quadrati direttamente sullo schermo. Strumenti integrati nella termocamera migliorano l'organizzazione e semplificano i riporti. Inoltre, grazie a funzioni programmabili come il passaggio con un solo clic tra immagine termica e MSX, puoi configurare la termocamera su misura per le tue esigenze. Tutto questo nel formato robusto ed ergonomico di FLIR con un'impugnatura pistola, per usare la termocamera in qualsiasi situazione con la massima sicurezza. Le nuove termocamere avanzate FLIR serie EXX consentono di individuare i problemi nascosti più velocemente. Grazie. 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 Grazie.